Buongiorno, bentornati sul canale, ma soprattutto bentornati sulle Dolomiti di Brenta. Questa mattina ci siamo alzati alle 6 dal rifugio Casinei, abbiamo fatto un'ottima colazione e siamo arrivati qua al rifugio Brentei con il sentiero Bogani. L'obiettivo di oggi sarà quello di fare le bocchette alte. Ne abbiamo preferito dormire al Casinei in modo da essere già un pochino in quota per arrivare qua il prima possibile e poterci godere il giro con calma. Sono in compagnia di Francesco, Francesca e Stefano. Ieri abbiamo lasciato la macchina al parcheggio di Vallesinella. Siamo belli freschi, belli carichi. Direzione Alimonta e poi attacco. A dopo. Non riesco a appoggiarmi bene qua dal petto. Ascondi, nascondi. Siamo arrivati all'attacco, ci imbraghiamo, partiamo. La salita dall'Alimonta qua è stata un po' spacca gambe. Bellissima, posiziale. Che c'era un ghiaione importante, però dai, adesso siamo arrivati quasi alla massima quota di oggi. Quindi ci imbraghiamo e partiamo. A dopo. Che c'era un po' spacca gambe. 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 Comunque anche le bocchette alte, tanta roba, che giornata, super, fotonica, sì sì. Grazie per la visione! Bene, siamo arrivati a un altro punto iconico delle bocchette alte, che è la Scala degli Amici, che è una scala di 30 metri che ci porterà giù e poi dovremmo risalire per una bocchetta. Siamo alla mitica scala? Sì, siamo alla mitica scala. Ciao! 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 Ciao ragazzi! Grazie.